La tappa di aprile diventa di fondamentale importanza per l'acca montella di Dino Guadalupi. Un successo servirebbe a blindare il secondo posto. Una vittoria permetterebbe di chiudere il discorso relativo alla migliore posizione in ottica a spareggi. La piazza d'onore infatti consentirebbe alla gialloniera di avere la doppia chance per accedere alla 2. Ma il coach pugliese non vuole sentire parlare di partita più importante dell'anno. Sono stati tutti importanti, lo predichiamo dalla prima gara. Diciamo che il campionato si affronta gara dopo gara e oggi dice questo per detto, ma non è assolutamente la partita più importante. Come si affronta questa gara? Si affronta come ho appena detto, continuando a cercare di esprimere il proprio livello, come abbiamo fatto sabato contro Marsala. In una gara che ha un determinato tipo di valore, ce l'abbiamo fatta diverse volte, in questo momento ce la stiamo facendo spesso, con più continuità. Quindi questo è il modo di andare a affrontare una gara che sicuramente sarà complicata. E non fa promesse in caso di promozione? Mi auguro di festeggiare finalmente in caso di promozione, ma questo lo vediamo più avanti. Adesso abbiamo ancora due partite da giocare, quindi è tutto ancora da scrivere. Quanto sarebbe importante chiudere il secondo posto? E' importante in virtù della formula, principalmente, perché la formula consente alla seconda di avere due opportunità, diciamo, di giocarsi alla promozione, di rientrare anche nel caso in cui si perde la prima fase. E' importante, però la cosa più importante resta comunque entrare nella zona calda. Dello stesso parere dell'allenatore Sofia Devetag. Sì, è un appuntamento molto importante, sarà una partita molto difficile sia per noi che per loro, speriamo. E sì, è una partita importante perché dici del nostro secondo posto. E' molto importante perché così giochi subito la settimana dopo e giochi contro la seconda del Girone C, quindi insomma, sì, importantissimo. A parte come risultato, ma poi anche come orgoglio personale, sarebbe una cosa molto importante. Quest'ultima rivolge anche un appello ai tifosi. Che vengano, che vengano a tifarci, che vengano a supportarci e niente, sì, ovviamente bisogna seguirci fino ad aprilia, tanto non è tanto lontano, quindi venite e state con noi.